A cosa si riferivano praticamente? Al fatto che io chiamo le cose con il loro nome, cioè se devo parlare di sesso orale non è che so girare intorno, chiamo la cosa con il suo nome che tra l'altro tutti conosciamo bene, abituati come siamo all'ipocrisia, siamo bravissimi a capire di cosa si sta parlando senza nominarlo. Quindi la cosa che ho fatto è invece non stare a perdere tempo su quello per arrivare più facilmente al dunque della questione, chiamo le cose semplicemente con il loro nome. Quindi non so, io i tabù che ho visto, come diceva giustamente Irene, molto spesso sono legati a questioni di ruolo, quindi al ruolo maschile e al ruolo femminile. Quindi la donna che deve mostrarsi ingenua, non deve far vedere che capisce troppo bene di sesso, non sia mai che sia considerata una donna facile o cose del genere. L'uomo invece ha tutta una serie di poi aspettative sociali che purtroppo condizionano poi la percezione di sé, che è quella della virilità, dell'essere lui che guida il rapporto, del dimostrare questa virilità anche sessualmente. Purtroppo che succede? Che questi ruoli ci ingabbiano e ci impediscono invece di sperimentare non solo pratiche, magari nuove che avevamo escluso, perché oddio non sia mai che pensi male di me, ma cioè ragazzi stiamo qui per cosa, c'è un'attrazione, divertiamoci, vediamo cosa ci piace, ma anche proprio personalmente con noi stessi, cioè ci impediamo di scoprire parti nuovi di noi, oltre che pratiche da appunto adottare con il partner, quindi insomma più o meno io concordo con Irene, nel senso che la maggior parte, quantomeno dei tabù che sono emersi, per quanto ti dicevo, dalla curiosità e dalla voglia assolutamente positiva di mettersi in discussione dell'Instagram, la grande maggioranza dei miei lettori sono comunque tabù legati al ruolo e quindi in qualche modo alle aspettative sociali, a un'ansia del giudizio sociale su gli uomini appunto che hanno paura di essere considerati per esempio omosessuali, questa cosa io l'ho trovata moltissimo rispetto quando per esempio si parlava sul mio blog, magari trattavo l'argomento sessonale, c'è una resistenza esagerata degli uomini, come una paura, un'omofobia tale, una paura tale di scoprire poi chissà che ti piace. Come quella di Papa Ratzinger effettivamente. L'omofobia, proprio perché tu sai che c'è stata proprio una crociata del Paparazzi, tanto adesso quanto era prefetto della Comunicazione della Fede, che l'ha stato per circa 20 anni, ed era, praticamente lui fustigava sia l'omosessualità, se non sia mai, magari succedeva a volte che dei preti e delle suore accoglievano gli omosessuali nella loro comunità, erano in qualche modo persone che devono essere completamente escluse, immaginate, e come del resto, Papa Ratzinger si è scagliato, adesso è andato in Brasile, giustamente ha fatto, rendiamo grazie a Rio, giustamente, che è stata una cosa un po' spontanea, comunque è andato in Brasile, dove effettivamente per tanti anni ha fustigato la famosa teologia della liberazione, che era quella dove i preti si mettevano dalla parte della gente e dei popoli contro l'oppressione del potere, e guarda caso la Chiesa ha sempre salvaguardato il potere e naturalmente ha punito in qualche modo i preti che cercavano di aiutare la gente oppressa, e questa è stata un po' la politica di Papa Ratzinger. Adesso parlavamo di preti, appunto, introduciamo appunto questo argomento di clero, di ipocrisia, perché poi effettivamente l'ipocrisia che esiste nell'apparato ecclesiastico clericale è forse quella più, come dire, sicuramente più diffusa rispetto alla nostra società. più radicata, più radicata, certo, perché se vediamo che il prete è forse quello che devemos... Ma comunque tutti i fondamentalismi, scusa ma se ti interrompo, tutti i fondamentalismi hanno una loro cultura così radicata, vedi quello che sta succedendo nel mondo. Certo. Allora, questo per il cattolicesimo, ma anche per altre religioni, tra virgolette, e altre culture, per cui è molto difficile sradicare questo loro modo di essere, perché è un modo come un altro per difendersi, perché si ha paura di cadere, si ha paura di non riuscire a ritrovare più se stessi, si ha paura di non riuscire più ad affrontare il mondo, e quindi si chiudono, si chiudono e chiudendo si fanno del male, perché la chiusura non è certo positiva, ma è negativa, insomma, ricordiamo un po'. Io, permettetemi, ma io purtroppo vado su tutte le furie, se vedo chiamare terrorista un Andrea Rivera, perché ha detto la verità, su Pier Giorgio Welby, che è una persona che io posso condividere o non condividere quella cosa, forse in qualche modo è un argomento da affrontare poi magari con più impegno, naturalmente, più serietà, più attenzione. Però diciamo, in ogni caso, una persona che ha scelto di morire perché stava male tanti anni, è una scelta di un certo tipo, vengono stati negati i funerali cattolici. Naturalmente, invece, anche il signor Busci, che oggi è venuto a Roma, quando fra cento anni, mi auguro per lui, morirà, avrà dei funerali religiosi. Sono stati concessi a Pinochet, a Franco, come diceva appunto Andrea Rivera, sono stati concessi anche, fino anche a, non solo, ma Enrico De Pedis, il famoso renatino della banda ramagliana, aveva fino anche, non solo, gli erano stati concessi i funerali religiosi, addirittura c'era il suo ferretro, la sua tomba, custodita nella chiesa di San D'Apollinare, per intercessione poi di un famoso cardinale, di un famosissimo politico italiano, chiaramente, che adesso non voglio nominare, perché giustamente di queste cose sono delle prove un po' vaghe, perciò non abbiamo proprio, quando c'è una disamina documentale a cui mi posso ispirare, in qualche modo, su cui mi posso poggiare, chiaramente faccio i nomi, non ho problemi, però in questo caso, perché fare i nomi? Però quando si parla di un famoso politico, più volte presidente del Consiglio, insomma, si capisce di chi sto parlando, probabilmente i nostri ascoltori lo capiranno. Quello che voglio dire, adesso ho girato intorno alla cosa, però chiamare Andrea Rivera, un terrorista, quando poi si coprono reati molto importanti di pedofilia, come è stato visto poi, c'è un video che gira da molto tempo su internet, finalmente, diciamo, Santoro l'altra sera l'ha trasmesso, dopo tante battaglie ha dovuto condurre, perché non era facile ottenere questa autorizzazione, non è che lui non lo volesse fare, è che purtroppo ha avuto delle censure piuttosto dure, diciamo, delle barriere, ha trovato sicuramente degli ostacoli, degli elementi ostativi molto importanti e significativi sul suo cammino, però finalmente è riuscito a mandare in onda questa cosa. Onestamente, chiamare terrorista, Andrea Rivera che ha detto soltanto una verità, espresso una verità, neanche un'opinione, effettivamente, e poi magari coprire situazioni di questo tipo. Per anni, per anni e anni. Per anni, ma non hanno questi, diciamo che ci sono tanti casi, addirittura sono andati anche in Parlamento Europeo, di suore, per esempio, che soprattutto nei paesi del terzo mondo, che sono i preti che per paura, con il diffondimento dell'AIDS, violentano le suore, hanno rapporti con le suore, le suore spesso restano incinte, spesso queste suore come restano incinte vengono mandate via dalla congregazione, dall'ordine religioso, finiscono sulla strada. Queste sono situazioni che purtroppo vengono in qualche modo poi in una società molto maschilista, in un sistema, in un apparato molto maschilista come quello della Chiesa, effettivamente è una dittatura dove la donna viene marginata, viene considerata un essere inferiore, ma forse in una maniera più integralista, forse addirittura di quella del mondo islamico, perciò sicuramente è una situazione insostenibile, difficile da accettare. Però adesso ritorniamo al nostro discorso. Innanzitutto volevo dire, sia tutte e tre faccio questa domanda, sia Irene tra i pazienti, Loredana, tra le persone che ha conosciuto in qualche modo nella sua vita, diciamo, tra gli spettatori, e tu tra i tuoi, effettivamente non magari, anche se non si sono chiaramente identificati direttamente, però magari hai potuto capire, sono stati esponenti del mondo ecclesiastico? Tra i miei lettori? Sì. No. Ma che anche non ha... Non si sono palesati se così è stato. Perciò non hai mai avuto la sensazione magari? No. Tu, Loredana? Io ho ricevuto, sì, diverse lettere. Proprio ho avuto una corrispondenza con un frate della Puglia, credo. E sì, ma non una volta sola. Insomma, persone che si sono dichiarate religiose, appartenenti all'ordine religioso, sì. Tutte le pazienti, Irene? No, pazienti no. Vai. Vai. Diciamo che questo è un discorso più, forse, volevo chiedere più forse a Irene, a parte anche Loredana che sta per laureare in sociologia adesso, cioè perché è già la seconda laurea in sociologia, tra l'altro. Loredana non lo dice, Loredana.